Preoccupa la variante brasiliana del Covid-19. In Abruzzo individuati tre casi all'interno di una famiglia aquilana di Poggio Picenze di ritorno dal Brasile. I ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dopo aver individuato la variante inglese il 24 dicembre scorso, sono sempre loro per primi a sequenziare il genoma di quella brasiliana il 18 gennaio, come spiega il direttore dell'IZS Nicola D'Alterio. Siamo stati i primi a individuare, a sequenziare tutto il genoma virale del coronavirus della variante brasiliana, cosiddetta variante brasiliana. Tutti i virus mutano, ci sono tantissime varianti in circolazione e adesso faremo degli approfondimenti per vedere come si comporta questa variante. Ma quali sono i motivi di preoccupazione per questa variante brasiliana del Covid-19? Dalle prime valutazioni degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, la variante potrebbe essere maggiormente contagiosa tra la popolazione e non risparmierebbe chi nel passato ha già contratto il Covid. Presenta alcune caratteristiche di trasmissibilità più pronunciate rispetto alle varianti classiche che siamo abituati a conoscere. E in più questa variante presenta tre mutazioni nella proteina S, che è la proteina che interagisce con il recettore cellulare, che è anche la proteina verso la quale viene prodotta la maggior parte della risposta immunitaria, tre mutazioni che pare, ripeto pare, consentino al virus di scappare dall'immunità provocata da precedenti infezioni. Infatti si dice che questa variante può essere in grado di provocare delle reinfezioni in pazienti che hanno già avuto il Covid-19. Quindi l'impatto che questa variante potrebbe avere sarebbe in qualche modo importante, in quanto siamo tutti a conoscenza del fatto che è in corso la campagna vaccinale. Quindi sarebbe importantissimo stabilire se l'immunità provocata dalle altre varianti, ma soprattutto quella da vaccino, è in grado di neutralizzare la variante brasiliana. Grazie a tutti.